La Cosca dei Nebrodi, guidata dal boss Santa Paoliano, Turi Catania, è leader nel settore delle agromafie, almeno nelle terre di confine tra la provincia Etnea e quella di Messina. Contro un presunto esponente di questa organizzazione, il 41enne Giovanni Pruiti, è stato eseguito ieri dalla DIA un provvedimento patrimoniale. Sequestro milionario, sottolineano gli inquirenti che indicano Pruiti, come il nuovo capo della famiglia di Cesarò dopo l'arresto del fratello Giuseppe, Ergastolano per omicidio e associazione mafiosa. Sotto amministrazione giudiziaria, su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, sono finiti immobili e conti correnti, imprese di allevamento e coltivazione, ma soprattutto titoli ordinari dell'Agenzia Governativa per le erogazioni in agricoltura, AGEA, su cui i clan hanno da tempo affondato gli artigli facendo incetta di terreni, pubblici e privati, per intascare fondi europei. Un business contrastato dal presidente del Parco dei Nebro di Giuseppe Antoci, vittima ad un fallito agguato nella notte del 17 maggio dello scorso anno. Proprio in risposta a questo episodio, peraltro, erano scattati nei mesi scorsi gli accertamenti della direzione investigativa, culminati in queste ore nel congelamento del tesoretto di Giovanni Pruiti. Sotto esame, dicono negli uffici catanesi della DIA, in via Vecchia Ognina, anche movimenti e possedimenti di Clelia Bontempo, convivente del 41enne. Decisamente corposo il dossier penale del capo Cosca, condannato nel 2005 per partecipazione all'associazione mafiosa di Turi Catania, che controlla Bronte e Maniace, San Teodoro e Cesarò. Nel febbraio di quest'anno, invece, Giovanni Pruiti era stato fermato nell'ambito dell'operazione Nebrodi. Strettissimi i suoi collegamenti con Turi Catania, numero uno della filiale Santa Paoliana di Bronte, che ha in gestione un consistente giro di attività illecite, pure a Paternò e Adrano. Il controllo delle risorse comunitarie per l'agricoltura, comunque, rappresenta uno dei rame aziendali più importanti per i boss e i suoi colonnelli, che, come ha rivelato l'inchiesta Nebrodi, coordinata dalla procura distrettuale etnea, avrebbero costretto molti proprietari privati a cedere ai propri terreni, in modo da girare il protocollo Antoji, che ha subordinato la concessione di aree del parco al rilascio del certificato antimafia. In questo modo, la criminalità organizzata ha ostacolato ogni libera iniziativa agricola imprenditoriale, e condizionato il libero mercato, era stato il commento degli inquirenti dopo il blitz di febbraio. Oltre gli arresti, sequestri e le possibili future confische, la DIA, in un comunicato, ha evidenziato come gli accettamenti a carico di Pruiti e dei suoi familiari abbiano rivelato la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio acquisito nel corso dell'ultimo decennio.